Ancora un'altra versione. O forse sarebbe meglio parlare di strategia? Voglio parlare con il magistrato. Voglio raccontare tutto. Butungu, il congolese in carcere perce considerato il capo branco che la notte del 26 agosto ha stuprato. Una turista polacca e una trans peruviana a Rimini. Ora sarebbe disposto a dire tutta la verit. Butungu come scrive il resto del Carlino. Il cambio di strategia potrebbe essere dettato da opportunit processuali per poter usufruire delle attenuanti generiche. La procura intenzionata a chiedere per lui il giudizio immediato mentre lui potrebbe optare per Il rito abbreviato con una riduzione della pena di un terzo. Il richiedente asilo sarebbe pronto a confessare gli stupri. Non solo del 26 agosto. Ma anche del 12 agosto quando una donna di legnano riusca solo per miracolo a sfuggire al tentativo. Di violenza sessuale operato da Butungu. E non escluso che il congolese possa tirar fuori anche altri stupri al momento ignoti.